Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Un'infelice frase ha scatenato la reazione dei fan, Mina sarebbe una cantante mediocre e priva di talento L'industria musicale italiana è stata, nel corso degli anni, testimone di molte stelle che hanno illuminato il cielo della musica nazionale, ma poche sono riuscite a brillare con la stessa intensità di Mina Un'artista poliedrica, con una carriera che abbraccia oltre sei decenni di successi che è, senza dubbio, una delle cantanti migliori di tutti i tempi Il suo timbro vocale è inconfondibile così come la sua tecnica impeccabile e la sua interpretazione delle canzoni Quello che è certo è che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana e internazionale, influenzando generazioni di artisti successivi Tuttavia, la cantante è stata recentemente al centro di una controversia scoppiata in diretta Una sentenza glaciale, un'assertiva affermazione della mediocrità, è stata emessa in diretta in un programma TV, scatenando una reazione che ha sconvolto tutti gli spettatori presenti in studio La sentenza glaciale, Mina è una cantante mediocre. La sentenza che ha scosso il mondo della musica è stata pronunciata in diretta televisiva e ha osato mettere in discussione il talento di Mina Un'affermazione così audace ha immediatamente suscitato polemiche. Mina, nota per la sua voce unica e la capacità di eseguire una vasta gamma di generi musicali con maestria, sembrava un bersaglio insolito per un giudizio così severo Ma chi è stato l'artefice di questa frase ingiusta? Le parole sono state, Nina come cantante è mediocre rispetto a Comà come cuoca Oltre all'eccezionale talento musicale, sua figlia Benedetta Mazzini, nel programma è sempre mezzogiorno ha confessato ad Antonella Clerici come in Mina si nasconda anche una chef straordinaria, rivelando di conservare ancora oggi questo libro meraviglioso intitolato Le ricette di casa mia in cui sua madre aggiungeva ogni volta una nuova ricetta Tornando alla sua carriera musicale Mina è molto più di una semplice cantante È una delle voci più riconoscibili e versatili della musica italiana, con un repertorio che spazia dal pop al jazz, passando per il rock e la musica leggera La sua interpretazione di ogni canzone è intensa e autentica, toccando l'anima dell'ascoltatore È riuscita a reinventarsi e rimanere rilevante in ogni decennio, dimostrando la sua ineguagliabile versatilità La sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, e il suo talento culinario è solo un altro aspetto affascinante di questa straordinaria donna Mina è una leggenda vivente, una cantante senza tempo e la sua eredità musicale continuerà a brillare nel firmamento dell'arte e della cultura Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video